Con il mister Pasquale Borrelli del Portici. Mister, quest'oggi un banco di prova importante per i tuoi ragazzi contro una squadra di tutto spessore, qual è l'equipo Campania? Sì, sì, oggi comunque venivamo da ieri, una giornata molto intensa, fatta di doppia. I ragazzi li ho caricati tantissimo a livello di lavoro, lavoro fisico e tattico. Stamattina abbiamo fatto un altro lavoro e oggi sono stati eccezionali perché sono impegnati. Io non guardo mai il risultato, ma guardo la prova, la prova del gruppo, come gruppo e come squadra. Oggi siamo stati bene in campo e ci siamo divertiti. Un attacco di spessore che quest'oggi ha dato il suo banco di prova? Sì, ragazzi giovani, seri, che si impegnano, fanno quello che dico. Però voglio fare complimenti a tutti, tutti i ragazzi, tutti i 25 che sono a disposizione, perché sono stati veramente eccezionali. Io sono contento di allenare a loro, sia i giovani che i grandi, perché mi aiutano e fanno quello che noi proviamo in settimana. E poi ringrazio Sasa Fiorillo che oggi ha fatto di nuovo 90 minuti, quindi veramente si mette a disposizione. Grazie mille. Grazie a voi.